E andiamo a giocare in casa con Moreno, non ti vedevo Moreno, vedevo perdone, Moreno è Colani Ovviamente c'è sempre chi è polemico e uno mi ha scritto di recente Ma i migliori italiani ruotano ma Moreno c'è sempre, come mai raccomandato? Dico no, è di lì È nostro amico Ma scrivono senza ragionare, è di radio della Valdorcia che è a 8 cm da qui, lui è fisso e poi gli altri girano Ma voi sapete chi è che scrive? Allora, Moreno ormai qua abbiamo presentato tutto e stavolta presentiamo una birra molto interessante Che mi dà l'aggancio di parlare del nuovo, del nuovo, un nuovo made in Italy che è venuto in Italia adesso Magari anche con tutta di polemica seguendo un po' la moda americana Ma se è una moda va bene, cioè se è una cosa buona, ma tu vuoi noi la prestiamo in italiano, no? Che è solo l'uso Ed è quella dell'uso della barrigra Cioè l'uso della barrigra nel campo delle birre Se voi andate lì, le ultime 50 birrie che ho visitato in America, ma non è un numero che dico a caso Tutte avevano almeno una barrigra Alcune, è uscito adesso un articolo Non comprate lì perché costa troppo Che è River Food Vi mando il pdf che non mi sento le dito No, scherzo In cui c'è un articolo sulle birre barricate americane E si esibisce, ragazzi, con le barrique Usare le barrique si può fare in due modi Decidere di usare le barrique o, come molti italiani e toscano Usare le barrique perché lui nelle barrique le vede fino da bambino Quindi è stata cinciata, ma è una cosa naturale Penso sia la seconda, vero? Due parole, cioè la seconda, la seconda è che ho detto Cioè quella che tu hai dimestichezza Come in Zolosi, che è finito un produttore di vino Sarebbe anche che è stato un produttore di vino Io vi rispetto tutti, anche chi dice a Pavolino Sono di Torino, sono di Capron Perché voglio usare la bambina La uso C'è chi invece ha avuto dimestichezza con vino Con la bambina In Toscana, grandi birre italiane Sono vicini a vino Piozzo e due chilottica dal dolcetto a dieci da parolo Città vecchia e vicina a prosecco E loro sono... Mi sembra che è un po' di vino quel tono Quindi a te la parola Sì, grazie Niente Una cosa importante che diceva Lorenzo In questo momento questa cosa della barrique Il legno è una cosa nuova Una moda che è uscita fuori Io sinceramente mi piacciono poco le mode E questa cosa che ho fatto è uno scherzo Insieme a un amico produttore di Brunello Tanti lo conosceranno Si chiama Talenti Non faccino Insomma, è un amico E abbiamo detto Perché non mettiamo un po' di birra dentro una barrique tua E veramente è stata una cosa che abbiamo provato così Per amicizia, per scherzo E alla fine la birra è venuta fuori Una cosa particolare, interessante Dal punto di vista mio Per merito della barrique Per merito del prodotto che era dentro la barrique Per carità Magari la birra fa la sua parte Però ecco Sentendo tantissime birre Come ha detto Lorenzo Fate nel legno Fate nel legno Usando per tantissimi tipi di vino Tantissimi altri tipi Il legno di Luiz Vennero Piuttosto che Non lo so Di tante cose Questa qui secondo me ha avuto Una Diciamo Una parte fondamentale Nella Quello che c'era prima nella barrique Questa qui Diciamo Una birra che è stata messa Dentro a queste due barrique Abbiamo fatte due 400 litri E era stato tolto Il Brunello La settimana prima Sentite da voi È venuta fuori Una birra che ha Ha avuto il sopravvento Quello che è il legno Quello che è il vino E ora parlavamo Qui nelle retrovie Con Schicci E noi l'abbiamo Viuvuta insieme Ad aprile E in questo momento Stiamo bevendo Questa birra Che ha un anno Di bottiglia Lavorazione Tra il beneficio Dormaia Che siamo spostati Da un anno A Montepulciano E il consorzio Del vino nobile Con una cantina Che produce vino nobile E da qui nascerà Credo Che abbiamo parlato Dieci giorni fa Un qualcosa Di più concreto Nel senso Di più studiato Di più Ci stiamo un po' Più dietro Insieme all'enologo Vediamo Insomma Faremo una decina Di balik Vediamo Se faremo Una rifermentazione Perché così Comunque È molto difficile Vendere una birra In balik Se poi pensiamo Che non è rifermentato La maggior parte Della gente Stappa una birra Non fa schiuma E il 90% De la persona Non è rifermentata Of course When the world Of beer Means the world Of wine È fantastico Ok Ma in tutto Il progetto Stile Islumaric C'è bien La Belgica il messo no, come si asolisse, il reno, il prova, il primo, il bianco, il cerchio, il rimedi di calma, la acquistazione, il rispetto a fare a fare a fare a fare a fare. Non so, il riso della pote per le bifle è del peggio, nel senso, non le metti a parte e non ci si sa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.